La scelta della piattaforma per investire è uno dei passaggi fondamentali, sia se stai iniziando a investire adesso, sia se magari hai già fatto qualcosa però ti sei reso conto che magari il broker o la piattaforma che avevi utilizzato fino ad ora non ti permette appieno di fare tutto ciò che desideri. Quindi ho pensato di girare questo video all'interno del quale voglio condividere delle informazioni che possono essere valide per tutti, che possono esserti di aiuto per orientarti nell'ambito del complesso mondo delle piattaforme dei broker. Ormai online ce ne sono centinaia, ne viene fuori uno al giorno ed è difficile poi capire quale può essere quello più adatto a noi. Quindi nel tempo che passeremo insieme ti darò quelli che sono i criteri che utilizzo io per scegliere le piattaforme, per analizzarle, per capire quali possono essere più valide rispetto ai miei obiettivi. Cominciamo subito dopo la sigla. Allora dicevamo dobbiamo scegliere la piattaforma per investire. Una delle domande che ricevo più frequentemente da parte delle persone in genere è un pippone che mi descrive le caratteristiche tecniche magari della piattaforma bancaria, del conto che hanno utilizzato fino ad oggi e si conclude con la fatidica domanda. Quale piattaforma devo scegliere? Quale broker mi consigli? E ovviamente se mi segui da tempo sai che di fronte a domande complesse amo scrivere in maiuscolo dipende. Perché ci sono tutta una serie di considerazioni che dobbiamo fare e le provo a fare ad alta voce ragionando insieme a te. Il primo tema fondamentale è che devi avere le idee chiare su quello che devi fare. Molte persone vogliono prima scegliere la piattaforma e poi vogliono capire come devono investire i soldi. Non c'è niente di più sbagliato. È come chiedersi se è meglio, che ne so, guidare la Maserati piuttosto che la Ferrari e non abbiamo neanche preso ancora la patente. Quindi consiglio ancora preliminare prima ancora di dirti quale piattaforma scegliere è quella di capire che cosa devi andare a fare sui mercati finanziari. Perché sui mercati finanziari in genere le persone vanno a fare due, forse tre cose. Le persone che mi seguono magari in maniera più assidua sui mercati finanziari investono per il lungo termine. Cioè pongono in essere una serie di investimenti in azione, ETF, fondi a seconda dei casi che hanno una natura pluriannale. Quindi comprano per tenere, per percepire dei dividendi, per percepire delle cedole o comunque per far crescere il proprio patrimonio mediante l'interesse composto. Questo è uno degli obiettivi. Altre persone, magari i trader professionisti, vanno sui mercati finanziari appunto per svolgere un'attività di trading. Cioè per comprare e vendere strumenti finanziari e per comprare e vendere in tanti casi strumenti finanziari aventi una natura speculativa. Quindi non è detto che comprino solamente azioni, obbligazioni, fondi o ETF, ma magari acquistano ETF a leva, acquistano CFD, opzioni o altri strumenti appunto che fanno più parte del campo del trading. E questa è un'altra possibilità, è un'altra modalità di ingresso sui mercati finanziari che devi considerare quando scegli la piattaforma. Altre persone ancora, e qui c'è il terzo motivo che è un po' parente del secondo però sbiadito, vanno sui mercati finanziari per scommettere. Invece di andare a giocare all'otto magari cercano una piattaforma dove mettersi appunto proprio a giocare. Tanti dicono giocare in borsa perché appunto intendono la cosa come un gioco. E allora in quel caso lì cercano una piattaforma che costi poco, che li faccia divertire, la gamification e tutte queste belle cose che piacciono tanto. Su quest'ultimo aspetto non mi concentro perché per me gli investimenti sono una cosa seria, quindi voglio provare a darti consigli soprattutto sui primi due motivi che ti possono portare ad andare sui mercati finanziari. Chiarito che dobbiamo capire quindi che cosa dobbiamo andare a fare, possiamo cominciare a capire quale vestito indossare. E' come se devi andare a una festa, un conto è se devi andare a un matrimonio, è una cosa magari se devi andare, lasciami dire, al compleanno del tuo amico. Ti vestirai a seconda dell'importanza della festa e della natura della festa, oltre che delle usanze voglio dire che qui in Italia siamo tutti appassionati di feste, di mode, soprattutto matrimoni, battesimi, comunioni, ci piacciono tanto. Quindi ti ho fatto l'esempio della festa perché è molto molto vicino a noi. Il primo punto fondamentale è che dipende dai soldi che hai, cioè dipende da quanto denaro vuoi destinare al tuo progetto di investimento, sia esso appunto avendo natura pluriennale come investo io, o sia esso avendo natura diciamo di trading, quindi un'attività vera e propria, perché per me il trading è un'attività vera e propria. Perché è importante capire il capitale? Perché in genere il capitale che ne abbiamo determina poi l'ammontare delle singole operazioni che andiamo a porre in essere. Ti faccio un esempio, se devi costruire un portafoglio di lungo periodo e hai 5.000 euro perché poi conti magari di integrare questo portafoglio negli anni con dei versamenti mensili, per te è importante capire quali sono le commissioni della singola piattaforma. Perché? Perché tutte le piattaforme hanno delle commissioni minime per inserire un ordine e se queste commissioni minime impattano troppo sul capitale che tu vuoi andare a investire, ciò rende la piattaforma poco conveniente. Di contro, se devi investire con una cifra consistente, magari devi investire 300.000 euro per il lungo periodo, in quel caso lì se devi acquistare 10-15 strumenti finanziari, il costo minimo che ti viene chiesto dalla piattaforma tende ad incidere molto meno sul tuo capitale. Quindi questo è importante. Lo stesso vale, se vogliamo, anche nel campo del trading. Perché? Perché se vuoi fare trading tutto dipende dall'operatività che vuoi avere. C'è chi fa trading giornaliero, c'è chi lo fa settimanale, chi lo fa mensile. Ciò incide ovviamente su quante operazioni realizzi. Per esempio nel campo del trading ci sono piattaforme che hanno delle commissioni che tendono a decrescere se aumentiamo le operazioni, ci sono delle piattaforme che ti fanno una sorta di profilo flat. Anche lì devi farti la domanda su quanti soldi hai. Perciò non esiste la migliore piattaforma. Esiste la migliore piattaforma per te. Perché se vuoi iniziare a fare trading anche lì con 5.000 euro in discorso, se vuoi cominciarlo a fare con 50.000 è diverso. Perché comunque materialmente il numero di operazioni che andiamo a porre in essere, se lo facciamo appunto a livello umano e non ci serviamo di algoritmi o cose complicate, le operazioni che possiamo realizzare sono quelle. Quindi cerchiamo di capire se è tanto o poco quello che abbiamo rispetto a quella che è l'offerta delle varie piattaforme. Chiarito l'aspetto riguardo quanti soldi abbiamo, dobbiamo capire un'altra distinzione fondamentale che c'è tra le piattaforme, cioè quelle che sono in regime amministrato e quelle che sono in regime dichiarativo. Semplificando, in genere le piattaforme che sono in regime amministrato sono quelle italiane. Perché? Perché ci fanno da sostituto di imposta. Come sai, in Italia l'aspetto fiscale è sempre estremamente importante e sentito. Avere la piattaforma in regime amministrato in molti casi è comodo perché quando vendiamo uno strumento e abbiamo appunto realizzato magari una plusvalenza oppure quando incassiamo un dividendo o una cedola la piattaforma provvede a pagare per noi subito le imposte e provvede a realizzare tutti quelli che sono gli adempimenti fiscali. Quindi noi non dobbiamo praticamente fare niente in sede di dichiarazione dei redditi perché ha fatto tutto la piattaforma. Ma questo in genere lo fanno le piattaforme italiane, le quali però se glielo chiedi in alcuni casi ti possono anche permettere di utilizzare il regime dichiarativo. Quindi non è una cosa tassativa, però di solito, di default, le piattaforme italiane, siano esse banche o siano esse appunto delle SIM, hanno già di per sé il regime amministrato. Regime dichiarativo invece. Il regime dichiarativo, come dice stesso la parola, non vede la piattaforma agire da sostituto di imposta ma i dividendi, le cedole e le plusvalenze ti vengono, e anche le minusvalenze ovviamente, ti vengono considerati lourdi così come sono stati realizzati e devi essere tu annualmente a procedere agli adempimenti fiscali. Quindi devi sia dichiarare al fisco praticamente la tua situazione sia devi eventualmente, se ci sono dei rendimenti, devi procedere tu agli adempimenti fiscali quindi a versare le imposte. In genere sono in regime dichiarativo le società estere, perché se sono all'estero non ci fanno appunto da sostituto di imposta. Qual è il grande tema che si deve affrontare in questi casi? È che talvolta si tende a preferire il regime amministrato appunto perché è più comodo, talvolta il regime dichiarativo sembra essere più abbordabile perché appunto in genere le società che sono all'estero sono più grandi, hanno delle commissioni più basse rispetto alle banche e le società italiane e sono in qualche modo più appetibili o hanno un accesso ai mercati più ampio perché ci permettono appunto di acquistare più strumenti su più piazze in certi casi. Come si risolve questo problema? Anche qui ci sono due considerazioni da fare. La prima è sempre parente alla precedente. Quanti soldi abbiamo? Quanti soldi stiamo investendo? È chiaro che se stiamo investendo poche migliaia di euro magari ci conviene il regime amministrato perché così abbiamo meno tempo da perdere. Mentre se stiamo per esempio facendo trading con tanti soldi magari il regime dichiarativo ci può essere più utile perché visto che stiamo cercando di fare un'attività economica ridurre l'impatto dei costi può essere significativo. Oltre all'aspetto dei soldi poi c'è l'aspetto proprio del tempo perché ovviamente a seconda del tempo che noi vogliamo dedicare ai nostri investimenti può essere più conveniente l'uno o più conveniente l'altro. Recentemente ho scoperto una cosa che ti può essere utile se non ne hai sentito parlare. Esiste un servizio in Italia che si chiama MoneyViz circa MoneyViz.it ti posto il link in descrizione che a mio parere può essere molto utile se sei in regime dichiarativo perché senza andare troppo nel merito perché trovi tutti i dettagli in descrizione c'è anche il link alla mia recensione MoneyViz ti permette sia di avere una visuale insomma di tutto quello che è l'andamento dei tuoi investimenti con i rendimenti in real time e tutte queste cose che possono esserti utili soprattutto se investi su più piattaforme oltre a questo MoneyViz ha una funzione unica nel suo genere che ti permette appunto di essere in regola con il fisco. Che cosa fa in pratica? Di anno in anno ti mette a disposizione il modulo già precompilato per effettuare la dichiarazione quando sei in regime dichiarativo quindi che cosa significa? Che tu puoi utilizzare una piattaforma in regime dichiarativo attraverso MoneyViz praticamente non devi fare tu i conteggi a mano di che cosa devi versare basta che con un click premi insomma dopo aver caricato tutti i dettagli in piattaforma e è stesso lo staff di MoneyViz è stesso il servizio di MoneyViz che ti fornisce appunto la documentazione necessaria che devi presentare al commercialista ovviamente questa è un'ipotesi che ho voluto segnalarti perché appunto rende a mio parere il regime dichiarativo più interessante per quelle persone che dicono non voglio avere sbattimenti perché te lo semplifica in alternativa se non vuoi appunto valutare MoneyViz considerate riflessioni che ho fatto finora tempo e soldi quelli sono i due principi di base su cui ragionare un altro aspetto importante che riguarda la scelta della piattaforma che ho visto soprattutto negli investitori che cominciano e magari non hanno una buona conoscenza insomma della borsa e dei mercati è se la piattaforma ci permette di avere accesso diretto al mercato oppure no perché è importante? possiamo fare una semplificazione poi non è proprio così e andremo nel dettaglio esistono piattaforme che nascono come Direct Market Access cioè nel senso sono piattaforme che ti permettono di acquistare direttamente gli strumenti finanziari se vai su una normale banca italiana e vuoi acquistare le azioni inserisci l'ordine e acquisti le azioni vuoi acquistare fondi, vuoi acquistare ETF inserisci l'ordine e acquisti lo strumento finanziario questo è accesso diretto al mercato perché? perché la banca prende il tuo ordine e va sul mercato finanziario quindi sulla borsa dove hai inserito l'ordine e acquista per te poi ci sono le piattaforme che non hanno l'accesso diretto al mercato ma sono definite market maker che sono quelle piattaforme con le quali non acquisti direttamente l'azione l'ETF, il fondo, l'obbligazione insomma quello che vuoi acquistare ma acquisti degli strumenti che vengono creati dalla piattaforma stessa e che sono all'interno del mercato della piattaforma quindi market maker perché significa che quella piattaforma non ti fa cedere al mercato pur essendo comunque per legge tenuta ad essere collegata al mercato te la sto semplificando perché non voglio essere noioso voglio farti capire la differenza di base per capirci una piattaforma tipo Plus500 quando parla di CFD è una piattaforma che non ti fa avere l'accesso diretto al mercato perché i CFD sono degli strumenti derivati che hanno un'esistenza all'interno della piattaforma nella quale investi quando invece per esempio investi che ne so con DeGiro e acquisti direttamente azioni stai avendo accesso diretto al mercato anche qui non c'è né uno che è buono e uno che è cattivo dipende da quello che dobbiamo fare perché se vogliamo investire per il lungo periodo dobbiamo avere un accesso diretto al mercato perché dobbiamo acquistare direttamente gli strumenti se vogliamo fare trading in molti casi ci conviene acquistare appunto questi strumenti derivati come possono essere i CFD ma ce ne sono tanti altri che hanno una finalità principalmente diciamo più speculativa rispetto all'acquisto diretto degli strumenti perché ti ho detto che è una distinzione che vale a livello di scuola ma diciamo ha tante sfumature di grigio perché ci sono sia piattaforme che per esempio sono nate come piattaforme market maker e poi ti hanno abilitato l'accesso diretto al mercato e in questo un esempio è Itoro Itoro è una piattaforma che ti permette sia di fare trading attraverso appunto strumenti più speculativi che attraverso l'accesso diretto al mercato e poi ci sono le piattaforme che si presentano che nascono come piattaforme con l'accesso diretto che in realtà anche loro vendono gli strumenti per esempio Finico è una piattaforma che nasce come bancaria perché fondamentalmente ti permette di accedere a tutti i mercati però la stessa Finico all'interno è anche market maker in tanti casi perché ti vende anche strumenti che non ti fanno acquistare direttamente il sottostante lo stesso accade per esempio anche su DeGiro o su altre piattaforme quindi questa distinzione non è così netta quello che dobbiamo capire è sempre alla base che cosa andiamo a fare sui mercati finanziari se andiamo a speculare probabilmente dobbiamo orientarci verso delle piattaforme che ci danno gli strumenti per speculare se andiamo a investire ci dobbiamo orientare verso quelle piattaforme che ci fanno acquistare direttamente gli strumenti sottostanti e non ci creano una sorta di mercato parallelo che insomma per gli investimenti di lungo periodo non ci serve quindi riepilogando quello che dobbiamo fare quando dobbiamo scegliere la piattaforma è dobbiamo capire prima di tutto che cosa andiamo a fare sui mercati finanziari se non abbiamo chiaro che cosa andiamo a fare è inutile che scegliamo la piattaforma punto secondo dobbiamo ovviamente avere in mente con quanti soldi vogliamo andare sui mercati finanziari perché da lì capiamo se predilige le piattaforme chiamiamole più economiche più low cost rispetto ad altre piattaforme punto 3 dobbiamo capire con che grado di impegno vogliamo iniziare a investire quindi da lì possiamo capire se scegliere il regime amministrato o il regime dichiarativo e una volta capite tutte queste cose probabilmente capiamo anche quale piattaforma dobbiamo scegliere in base a quali mercati ci fa accedere quindi se abbiamo accesso diretto al mercato o se vogliamo appunto acquistare strumenti avendo una natura diciamo più speculativa e non necessariamente appunto strumenti quotati sui mercati diciamo regolamentati mettiamola così mi auguro che questo video ti sia stato utile fammi sapere con un commento quale piattaforma utilizzi e se hai trovato degli spunti diciamo utili per te dalla visione di questo contenuto io ti rinnovo l'invito a continuare a seguire i video di affari miei a presto ciao